ciao ragazzi eccoci qua un nuovo video il regionale per bari centrale in partenza prima è arrivato anche l'altro quello lì in fondo che non parte per ora però adesso in partenza questo per bari vediamo se ci saluta ci facciamo salutare proviamo non so neanche l'orario di partenza no non ci ha salutato è troppo impegnato di fretta andiamo al prossimo bello bello cancellazione 3 il treno regionale 23 6 5 0 intervistere il calcano premio in partenza alle ore 18 e 36 per santicato per cammino oggi non sarebbe il guasso attenzione attenzione vengono in arrivo al binario 4 allontanarsi dalla linea canta sono americamente sono in